Musica Ciao ragazzi, qui è Sawyer e bentornati al canale Siamo tornati su Asworld dopo tantissimo tempo E non vedo l'ora di fare anche le PvP Ora che ne ha aperto i server possiamo incontrare anche gli stranieri Ragazzi, non vedo l'ora Ragazzi, due cose Io non mi ricordo più niente Cioè, che cos'è questo simbolino che vedo sopra la testa? Scrivetemi qui sotto nei commenti per aggiornarmi anche un po' sulla situazione Ho visto che ho aggiunto anche la nuova mappa Ragazzi, io mi sono perso tantissimo Poi vediamo di aggiornarmi un po', raga, eh Questa qua, ragazzi, è la mia build skill Che mi ci sono sempre trovato bene Il mio Ashkaton, Furto dell'Anima e tante altre skill bellissime Detto questo, ragazzi, la gilda ormai è diventata inattiva Sono l'unico supersite Probabilmente, ragazzi, scioglierò la gilda ed entrerò in un'altra nuova Anche perché, ragazzi, non ho il tempo di andare dietro una gilda A meno che non incaricavo qualcuno e che me la porti avanti Però trovare amministratori di questi tempi Capisco che è un po' difficile Ragazzi, detto questo, direi di avviare le partite in PvP Non perdiamoci in chiacchiere Let's go! Ed eccoci qua, ragazzi Iniziamo la prima battaglia contro un veteran commander Perché, ragazzi, i personaggi non me li posso dimenticare Intanto mi prende proprio così di cattiveria Attenzione E mi ha anche usato la bramosi Eh, vaffanculo Inizia bene il tipo qua, ragazzi Ma noi non dobbiamo demordere Attenzione Urto E l'abbiamo agganciato Facciamo il trigger Perfetto Mega salto Usate il salto Non dire cazzate Ragazzi, non è possibile Usate il salto E invece no Invece no Oh my god Che guerrito Aspetta Andiamoci di qua Aspetta che scende, raga Così lo freghiamo Eccolo qua Eh, vabbè Eclis Bella Questa qua l'abbiamo stata bellissima Facciamo qualche combo Per ricaricare un po' di anime Proprio sul punto debole Furto E trigger È come se non bastasse Lancia spettrale Fanculo E qualche bella hit Gliel'abbiamo data Adesso parte lui, ragazzi Parte il protagonista Esch Cadò Boom L'abbiamo preso da dietro L'abbiamo fatto malissimo E, ragazzi Diciamo che il primo giro È andato Noi l'abbiamo agganciato Un'altra volta Furto dell'anima Trigger Perfetto Lancia spettrale Facciamo questa qua Che ha da tantissimo Che non la faccio Eclis Bella partita, ragazzi GG Per noi Ragazzi Non ci gioco da tanto tempo Però i tasti medi Corrano lo stesso Prossimo scontro, ragazzi Di nuovo lui Il veteran commander Ma perché Si sono aperti i server E troviamo sempre Lo stesso personaggio Questo qua Rimane spiegabile, ragazzi Però Secondo me Questa qua Potrebbe anche vincerla Si vorrebbe Vendicare Sicuramente Oh mamma mia Come ha fatto a prendermi Aspetta Aspetta No Ci penso io Tranquillo Continua a colpire Attenzione Raga Ora Furto dell'anima Preso Si No Si e no Peccato Per pochissimo C'ha questa Eclis E lo prendiamo da dietro E iniziamo a combare Così Vai così Furto E il trigger Lui però si è preso L'elisir del nano Che lo aiuterà tantissimo Facciamo questa Anche lui Fur Oh No no Che furto Ho stato il salto E l'ho stato Alla grande, ragazzi Vi carichiamo di nuovo Furto dell'anima Facciamo un bel trigger Eh, ragazzi Io direi di fare Eh Pioggia del caos Eh, forse non l'ho preso Forse ho fatto un fail clamoroso No, no, l'ho preso L'ho preso, ragazzi Piaciuta la sorpresa Bello Piaciuta la sorpresa No, non ho continuato Mannaglia Limite di Marbas No, non voglio fartelo, dai Non è giusto Usare il limite di Marbas Allora, aspettiamolo E io, ragazzi La prossima mossa Direi di fare Il nostro salto Eccolo qua No Eclis, Eclis Sbrigati Ah, c'è il gesto C'è il gesto C'è il fulmine Boom Fulminato E furto No, t'ho preso T'ho preso Dai Ma cos'è questa spera Mi sono perso qualcosa, ragazzi Nella mia assenza Aspetta Furto dell'anima E lancia spettrale No, doveva morire, ragazzi Colpo di grazia Io lo diamo con un bel eschaton Che dite? Eschaton E tanti saluti Bella Staschillo Ma perché incontro italiani? Voglio incontrare gli stranieri Ok, ragazzi Prossima battaglia Siamo contro Chung Prima, ragazzi Ho incontrato Dei livelli di rank D E non mi sembrava il caso Portarli nel canale Cioè nel video Nel canale Poi io nel video, ragazzi Anche perché erano bassi Quindi Adesso Che abbiamo preso il rank Siamo di rank A E incontriamo Nemici un po' più forti Attenzione Mi ho incontrato Chung Nella versione Pistolero, raga Attenzione E se ne è Cliss Eh, vabbè Lui è salito Guardalo come schiappa Vabbè Frendila, dai Cazzo se ne frega Ah, peccato Volevo provare Sto numero Però Non mi è riuscito Vabbè Dai, dai Colpiscimi Colpiscimi Tranquilli, ragazzi Tutto sotto controllo Qua Però non lo riesco a prendere Questo è fatto Vai Furto dell'anima E stavolta L'abbiamo agganciato E gli spara una bella Lancia spettrale Oh Vai con Ecliss Se ce la facciamo Niente Ok Ecliss Perfetto No, non è così tanto forte Però ragazzi Vedo tantissimi personaggi Che stanno spammando Un po' di ambizione Cioè praticamente Manca solamente Al noblesse Non ci credo mai, raga Allora Attenzione Ah Non ho ancora visto Come è combinata L'ecliss L'ecliss L'ambizione di Esword, raga Dovono dare un'occhiata Se l'hanno nerfata O l'hanno potenziata Questo non lo so proprio, raga Oh E basta Ok Preso Ma vabbè Ma io gli tolgo tantissimo Rispetto a lui Occhio, raga Occhio Questo qua può vincere Guardate che ha guerrito Attenzione, raga Facciamo questa Guarda come spara Le cannonate Attenzione Scatenato, ragazzi Eh, volevi prendere La pietra Bastardo Facciamo il trigger Eh, ragazzi Lo incateniamo qua Questo qua non esce più, raga Non esce più Facciamo l'artiglio Perfetto E adesso Bella sorpresina per te Ciao, ciao Bella, raga Bella, bella, bella Ok, ragazzi Prossima battaglia Di nuovo contro un Jung Occhio Iniziamo Questo cos'è? Non è italiano Fortunatamente, ok E l'abbiamo subito preso E messo all'angolo Intanto ci ricarichiamo Le nostre sperette Facciamo sempre Il nostro trigger È il mio preferito, ragazzi Una delle mie skill preferite Veramente È bellissima Dopo ci va con quella cattiveria A fare il trigger Vediamo se Riusciamo a non farci colpire No Eh, ci ha colpito Oh Non mi ha colpito Attenzione Non mi ha colpito Prendiamo anche l'isid Del nano Eh, vabbè Mi ha preso, raga Mi ha preso Allora, facciamo così, raga Mamma mia Questo qua è la classe Quella che spara i pallottoloni Scendi, scendi Vabbè Guardate che roba, raga Preso Vediamo se mi pigli da piccolo Vediamo Voglio fare questo, ragazzi Da tanto che non la faccio Ah, ma che è? Senza effetto, ragazzi Senza effetto E io Direi di fare una cosa, ragazzi Facciamo intanto Il limite di Malba Ci divertiamo un attimo Vediamo se lo riusciamo a prendere Buono, buono Vabbè, a me non fa più i danni di prima È il direi di fare Questa E fare Scatone Perfetto Mi sono divertito, ragazzi GG Per noi Mamma mia Ok, ragazzi Prossime battaglie Contro un'Elesis Let's go Fight Questa mappa esce spesso Ultimamente È una bella mappa questa Non me la ricordavo Sinceramente, raga Forse queste erano le mappe nuove Che erano uscite Però Sicuramente non ce l'ha arrivato Intanto l'abbiamo messa all'angolo Sempre col trigger Ragazzi Continuiamo 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 Perfetto Facciamo questa E direi Molto, molto bene E Forse l'abbiamo presa di nuovo Facciamo Ecliss Lei spam Ambizione E noi Sempre di trigger E cattiveria E prendiamoci anche la pietra Ti piacerebbe Prendere la pietra Facciamo questa E facciamo pioggia Del caos Anche se lei ancora È in spawn Ottimo, ragazzi Ottimo Secondo me Non ci sta capendo nulla Arriva Non ti preoccupare Oh, mamma mia Facciamo Ecliss Che è più forte La mia Ecliss O la tua Guarda lei così Oh Bella questa Come l'ha parata Bellissima Occhio Raga Questa qua Si sta riprendendo La tagliatrice A buttare Bruttissima Allora Io voglio fare Furto Ragazzi Facciamo così E facciamo furto E l'abbiamo presa Lontanissimo E gg per noi Ragazzi Ma stiamo facendo La strage Veramente E siamo tornati Ad elda Ragazzi Sono state delle belle partite Mi sono divertito Dopo tanto tempo A giocare Con il nostro Noblesse Veramente bello Ragazzi Il prossimo video Sicuramente lo porterò Con Esworld LLK E vediamo un po' Cos'è cambiato Quindi ragazzi Spero tanto che questo video Vi sia piaciuto Come al solito Vi chiedo di lasciare Un bel like Commentate Iscrivetevi E noi ci rivediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi